Del mio lavoro amo la parte in cui quando le persone assaggiano i miei prodotti si stupiscono del vero gusto della nocciola. Io sono Alberto Quazzo e lavoro nell'azienda agricola Tastelanghe e da cinque generazioni coltiviamo nocciole. Qui ci troviamo a Somano, un piccolo paese nel cuore delle langhe, un territorio vocato alla coltivazione della nocciola grazie ai suoi terreni, alle colline, alla terra e all'aria che caratterizzano questo territorio. Con la nocciola tonda gentile delle langhe realizziamo la nostra torta di nocciole Tastelanghe, una ricetta particolare che da generazioni le nonne realizzano e cucinano per i bambini, che è composta soltanto dal bianco dell'uovo, dalla nocciola e dallo zucchero. Grazie a una particolare e lenta tostatura. Il 50% di nocciole presenta al suo interno e a questa antica ricetta risulta particolarmente morbida. Quando assaggi una fetta della nostra torta senti il gusto vero della nocciola Piemonte GP.